video svuota la spesa mauris buongiorno mi scuso per la location ma le sporte della spesa le ho qua giù in garage e non ho intenzione di portarle su perché io ho una dispensa qua in garage dove riempio tutto vado veloce perché ho preso tanta roba dal mauris vi faccio vedere anche due chicche che ho preso da un'altra parte ad un prezzo molto battuto vabbè da mauris ho preso cartigenica allegra tre veli colorata di azzurro questa è in super sconto a 2 euro e 99 se non erro l'ho presa non è non ha il rotolo come la mia preferita ma ho voluto provarla poi la mia invece cartigenica primeri preferita super scorta tre veli 12 rotoli è questa qua eccola qua la vedete molto bene questa è quella che io adoro a dei bei rotoli grossi ed è super morbida ad un prezzo di è nato sul prezzo e mi pare 4 euro 49 scusate intanto faccio un po così i prezzi non me li ricordo tutti portate pazienza vi faccio vedere quello che ho comprato perché se lo facevo subito mi ricordavo ma non mi ricordo comunque sono tutti i prodotti trovati in sconto ho preso mauris multiuso 70 panni cucina detergono detergono e igienizzano io questi li porto su se devo andare in montagna li porto al lavoro per pulire i piani insomma li adoperò anche a casa per pulire il topper della cucina in velocità poi ho acquistato in super sconto della chip due prodotti uno è il green active sgrassatore universale aceto bicarbonato per il grasso più ostinato mentre l'anticalcare invece per il bagno per il cd calcare all'aceto e l'eucalipto sono nuovi formula potente questi li ho trovati in sconto a 1 euro e 70 poi ho preso la candeggina delicata del mauris questo è un 3 euro circa e sono 3 litri di prodotto proverò e vi faccio sapere questa è la candeggina poi ho preso un disisgorgante per i tubi che va sempre bene ogni tanto faccio il trattamento poi ho preso in super sconto questi della brown boccato sicuro questi intorno alle 2 euro 80 e ce ne sono dentro 50 panni lavatrice ecco ho preso queste tavolette vc al mauris che mi piacciono molto hanno dentro la candeggina ma sono freschezza all'eceno poi ho preso perché volevo provarlo questo winis doccia questo non era in sconto e l'ho pagato non mi ricordo adesso però non era in sconto quindi comunque i prodotti winis sapete che costano ma volevo provarlo perché dicono sia un portento non lo so 1 euro e 19 ho preso il bortalco poi a 0,99 questo classico bc gel con candeggina poi ho preso dei tovaglioli doppio velo a 0,99 centesimi questi sono 45 pezzi ma hanno una grammatura importante e sempre questi qua tavoletti vicini ho preso due paia due confezioni poi ho preso la ricarica della scala questo costava 0,99 me lo ricordo due litri di prodotto per detergente piatti adesso aspettate un attimo che andiamo andiamo avanti di questi ne ho presi due sempre 50 panni lavatrici poi ho preso cinque ricambi più il manico di queste qua scusate se vedete ma c'è anche una zanzara che gira questi qua ad un costo bassissimo queste sono delle salviette intime che hanno sì intime insomma da bambini che hanno la chiusura anche questi sono 110 pezzi li ho pagati intorno alle 2 euro e 79 poi ho preso altri pacchetti di tovaglioli questi 45 pezzi 0,99 centesimi uno lancione e uno beige poi allora alla lidl adesso vi faccio vedere perché li ho qua a 2 euro e 99 ho preso il fabuloso 82 lavaggi e ho preso questo alla vaniglia e orchidea e questo a a fresco mattino che sono le profumazioni che amo di più questa l'amo di più che quella a alla vaniglia però era un buon prodotto e ho trovato anche questo della sial a 0,99 che è che lo voglio proprio mamma sa un buon odore di marsiglia che è un detergente bucato ecologico ok 20 lavaggi stavo dicendo questi li ho trovati alla lidl a 2 euro e 99 82 lavaggi dal mauris questi costavano una paccata non erano il sconto costavano una paccata a 2 euro 89 per 80 lavaggi ho trovato il coccolino intense care che ho annusato dopo averlo comprato e non lo so questo se mi piace l'impostungers cioè nel senso ha una profumazione molto to match e questa che sono andata sul sicuro perché l'avevo provato e mi era piaciuto che proprio sta da fresco da bambino e questo sinceramente adoperato dalla bottiglia non sembra tanto beh è un ottimo prodotto bene vediamo a dulcis in fondo ho preso questo di coccolate videocattura odori al talco ma devo essere sincera che hanno usando questa profumazione al talco mi pare un talco tanto chimico non lo so se spero di sbagliarmi va bene e poi ho preso perché io sapete ho un divano in pelle vera ho preso questo che specifico per pelli detergente delicato con ingredienti naturali pulisce nutre e ravviva ho voluto provare in risconto scusate la luce mi rendo conto che è un video buttato su quella forca ma non ho alternativa se non farlo così e anche questo è in sconto ecco ho preso anche due bobine enormi di cui uno siete appoggiati sopra del mauris a 4,49 euro sono degli asciugatutto ultra assorbenti quelle insomma le bobine grosse e ce ne sono due questo è il mio diciamo la mia scorta che avrò per sei mesi spero no la cartigenica no però il resto si e spero che i miei acquisti vi possano essere vi siano vi possano vabbè avete capito essere piaciuti fate un commento se avete prodotti da consigliare iscrivetelo qua sotto mettete un like attivate la campanella e per seguirmi costantemente every day tutte le mattine tutte le mattine con le mie perle cliccate qua sotto sulla pagina instagram ciao 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 ciao